ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su della stovas parte 2 allora nello scorso episodio abbiamo visitato questa barca ok 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 perché siamo caduti dal ponte dobbiamo cercare di arrivare ancora all'acquario non siamo ancora arrivati però siamo sempre più vicini quindi presumo che in questo episodio arriveremo ripeto non so se ci faranno fare tutti i giorni con con ebby ma non lo so a meno che non succeda niente interessante non credo vediamo un po cosa succede devo provare di sopra ok saliamo stiamo avendo molti problemi con gli infetti anche con le persone in realtà dato che abbiamo finito praticamente tutti i colpi abbiamo colpi per pistola un paio di colpi per la balestra che abbiamo trovato nello scorso episodio che una bottiglia e poi abbiamo qualche munizione incendiare per il fucile a pompa ma in realtà tutto sommato non siamo messi così male se ce la giochiamo bene solamente che se troviamo un altro scontro diretto potremmo finire completamente le munizioni allora qua non sembra esserci nulla si può scendere però ok non ci danno vita semplice mi sembra che sentire un cane per un attimo quello invece era qualcosa che stava grattando sicuramente la pioggia che stava grattando da qualche parte ok vedo molti nascondiglie a erba alta speriamo bene allora ah ma siamo arrivati acquarium cosa facciamo esploriamo prima in giro allora vediamo un pochino se troviamo qualcosa magari aspetta di qua ad esempio si può entrare no va bene tutta questa zona per niente ok qui c'è un tricheco va bene entriamo all'acquarello ma fallo un po' di chiasso mi raccomando deve essere dall'altra parte e se non fosse lì te lo sei chiesta in the back or somewhere vediamo se riusciamo a trovare un altro passaggio allora ok cosa è questo un mattone dobbiamo sfondare qualcosa no in realtà ovviamente è chiusa devi entrare da qua Abby non ho visto un alimentatore però un generatore mi sfugge qualcosa sì devo salire nel tetto così giusto sì esatto vedete della lunghezza perfetta allora prendi la corda sì buttala esce andiamo ben chiuso a rompere le palle per quel vetro questa è chiusa cosa sta succedendo vabbè avanziamo dai questa è chiusa ok siamo a una parte abbastanza lineare c'è della musica Owen devo andare dove c'è lo squalo questi non li posso aprire vero ok vediamo se troviamo qualcosa di qua non sembra ok da lì siamo arrivati al piano di sopra troverò qualcuno o proprio devo entrare dove c'è la squalo data che me l'ha indicato vediamo magari troviamo qualcosa di di figo ok no perché chiude tutte le porte ogni volta se comunque il posto è su vabbè forse è perché comunque si sposta ok c'è un generatore acceso certo in che senso ah nella barca ok andiamo Owen non c'è nessuno ah sì che c'è siamo venuti di nostra spontanea volontà cosa è quello di questo è un'imilato mi potrà prendere la parte for me per 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 me Suit yourself. Danny's dead. Figured. You want to tell me what happened? We were cleaning out of the small camp. It's just a couple scars. I got this one on the head. And he goes down. And his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead he turns to me. And he's old. And tired. He was just ready. Killed a lot of scars. And this fucking guy. I couldn't do it. Of course Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he puts his fucking gun at me. So I grab it. And then at first I didn't even know which one of us was shot. Okay. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over landmen. I don't give a fuck about it anymore. I'm going to Santa Barbara. I'm going to Santa Barbara. The Chaser rumor? Probably more than once. 산eeee. The Chaser's insane. I don't mean to wear it anymore. I don't see it anymore. Okay. Perchè? Sì. Nói. Sòmai ifciché? Deess'essi provare. Oh, yeah? How do I do that? Try to find the people that killed my family? Cut into them? I could torture them until they're crying. Ebi? Ebi? Grazie. Siamo di nuovo nel passato? Ok. Stessa scena? Cosa, un sogno? Sì. Seattle, giorno 2. Ok. I get it. Owen non è venuto con noi. Ok. Cosa ha avuto? Una visione? Stiamo andando a morire? Già. Va bene, usiamo questo. Per andare oltre il ponte. Piuttosto mi ha dato munizioni. Va bene, abbiamo dai, non possiamo lamentarci. Ma facciamo attenzione perché abbiamo sentito dei fischi. No. 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 Collocato! Io no! E adesso... Savage io? Siamo sicuri che sia io il salvaggio qua? Allora... Ok, ci siamo liberati... Dalle Iene sprecando pochi colpi. A questo punto è meglio prendere il semi automatico. Ok. Vai! Ah! Beh, anche io avrei chiuso per non aver sorprese. Allora, non penso di trovare altra roba qui. Anche perché ho già cercato. Infatti, sono vuoti. Non avrebbe senso che si rifornisse di nuovo. Allora, vediamo se ho abbastanza pezzi per fare qualcosa. Mirino telescopico 4x. Sì, mettiamolo. Sì, mettiamolo. Non so da dove tutta lo sia tolta, però... Va bene così. Velocità ricarica. 15 pezzi. Allora. Cassetti vuoti, ovviamente. Lo spero anch'io perché stiamo facendo un bel po' di strada. Qua dove si passa? Qua dove si passa? Perché mi sa che l'ultima volta sono saltato, no? E questi? Non li ho visti l'altra volta? Vabbè. Curiamoci. Allora, da dove si passa? Da qua decisamente no, che debba saltare da qua? No, non salta. No, non ce la fa. Ah, che deficiente che sono. No, non ci sono più. Oh, c***o. Un figlio? Tu ancora qui? Non ci sono più. Non arrivi più vicino. È io. Sì. 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 meno male che c'era è normale Scusate a che non pareci. Scusate. Cosa hai bisogno? Ideale.. Un'azio, 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 un'antibiotici, ma siamo più di più di ideal in questo momento. Tiamo una fiazza, un'acqua, cutta e cauterizzano. Si matisse dalla infezione. Give me una lista. I'll go to the hospital and get whatever you need. Ok... Ah Ah Oggi. Sei seriosi? Le borgie sono usati da scarpe. Hanno iniziato solo in gruppi piccoli in un po' di una volta. Ho detto, piccoli piccoli. Questo non è una giocatura. Quasi l'aiva? L'abbia? D'abbia? 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 Ok, di nuovo verso il pericolo. Beh, lo faccio. Quale? Care? Asi sono anche amore? Si. Abbiamo avanti che Mel è andato. È uno dei migliori trombone in Seattle. Mel? Qual è suo nome? Il ragazzo? Owen. Perché sei... Non ricordo il nome. Ok. Aspetta che lutto un pochino anche. Ok. È abbastanza vicino, dai. Ok ragazzi. Io direi di chiudere qua l'episodio. Noi ci vediamo al prossimo sempre qua sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.